Sai è vero che suona molto male avere il nick inside? Eh, lo so che ho il nick inside. Bentornati tutti e ri-bentornati tutti porci sul canale. Io sono Pighead, di nuovo qua con queste ignobili persone che sono CrazyLory e Red Red. Niente Red stasera è drogato. E ci sono i funghi, si è fatto i funghi. E gli è partito il Waluigi. Gli è partito il Wario. E siamo infatti... Waluigi time! Su Left 4 Mario, o meglio Left 4 Dead, nella mappa custom a tema Super Mario Bros. Sto digerendo la cena, scusate. Faccio tipo... Salute! Faccio tipo coso, Mark D'Hammer, quando parla che ruta. Faccio tipo coso, sto faccio errò. Faccio tipo coso, partino, non so di capire la cena, scusate. Faccio tipo coso, partino,ää misura. Faccio tipo coso, partino. Faccio tipo coso,ей misura. ho capito ma allora io sono salito su ma mi è caduta la witch in faccia infatti ho segato la witch con la sua patata in faccia ok io fino a qui ci sono dopo che ho cercato di salvare Rochelle sono volato giù di sotto non so nemmeno io come ma sono volato di sotto Gori è morto per osmosi mi è arrivato l'Hunter che non me l'ha neanche capitato un attimo che prima pulisco che è pieno qua ho detto un attimo ma lo vengo a prendere pulisco qua che è pieno sei sciallo e già quattro volte che li abbiamo e siamo allora di canone male vogliamo parlarle vabbè prima sei crash ti ricordo che prima è colpa tua che sei crashato oddio è bene adesso vado verata maledetta vento spitter vicino ma che cazzo sto succedendo mi arrivo siamo tutti concordi nel dire che questa mappa è più un labirinto che non una mappa ma c'è una strada è easy è soltanto noi che siamo handicappati andiamo ahhh che chi è siamo handicappati ci sono pillole in quel tempo prese c'è ancora adrenalina non c'è nessuno qua sotto ragazzi meglio let's go mitraglietta c'è lì sopra bombole e benzina niente di che vabbè tre fullo la mitraglietta e via altre pillole red pillole di testi e poi su di brutto ok a salire c'è uno smoker bella cosa no mi piace eccolo perché ma perché io sono stronzo inside cioè io perché ho scritto stronzo in faccia stasera ma che è no giochi io mi devo sparare l'adrenalina aspettate un attimo aspetta tieni no ciappò ciappò ma la tieni anch'io in queste da là io passo da sopra raga passate da sopra perché c'è una cosa divertente da fare ah giochi su di me e dopo puoi chiudere un po' quel volume troppo alto eh dio sei a merda lanciati che tanto c'è ma perché sei andato così avanti cazzo oh io ero fermo eh ero lì vicino a voi eh no noi siamo passati da sopra ma lanciati da lì che c'è la gravità bassa c'è vabbè stiamo andando edo abbassa il volume ma ho abbassato il volume eh stai facendo eco non so perché stanno le cuffie allora ma sto usando le mie cuffie normali nooo eh hai preso danno ma comunque c'è qualcosa che non va non mi avvisa più mi alzo un pochettino il volume che non mi avvisa più di un effetto speciale no ha crashato come è crashato ottimo arriva anche un tank in che senso è crashato? è crashato no server fornito da terzi eh eh fa se che te ne ho tenuto in basso zio ah mi culo questa cosa ho perso tutta la vita bro salta usa la gravità salta sali in alto non posso saltare io ma non te chi sta tirando il mio culo bro sono dentro il dentro il coso che al massimo mi fa respawnare almeno si si adesso respawno tutto aspettate un attimo che non sto capendo più una meata sega di minchia buona minchia di seda vado a recuperare red crazy red tu curati adesso c'è un medikit là dietro uso quello che ho ancora di mio cazzo devo cazzo devo fare qua zio crazy no no qua in fondo c'è il medikit qui eh niente sono più i rochelle mi sa no non ce l'è preso qua arrivo 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 che sto lagando un pochettino cazzo ma stiamo a ping bassissimi è bello che questo è solo il primo livello oh 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 non è vero che sei morto occhio qua al prossimo salto perché che succede perché c'è il buco siderale la molly cosa vedono cosa vedono i miei occhi visione paradisiaca armi anche dov'è la witch mi sa dopo l'entrata dopo l'entrata come dell'allarme e si guardate nella niente per la zona rasciare la rasciamo e saliamo sopra i blocchi lì tre blocchi lì ospetta che lì c'era un boomer ma te sei un pazzo si bocca al guscio boomer fatto andiamo 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 ci siete raga io vi aspetto ragazzi sono già in foto c'è l'orda che mi sta saltando fuori non ti accorre c'è la witch qua davanti tranquillo te l'ho preso vai 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 su 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 tira la fai niente la witch si sono impastita su di me che non c'entravo niente variegato property via 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 via! COMBI out la bandiera! Ma fa culo Da vieni Ciao Rimango qua su No Chiudo di sta cazzo riporto Madonna santa Lo sapete che faccio i tagli Tutta la sistemazione del gioco Sto guardando il mio ping Minchia 150 Bene Bastardo inculato Ecco via che partiamo con i beep Qua manca un medikit ragazzi Chi si vuole sparare un medikit in più Ah io me lo sono già sparato Vabbè me lo sparo io Ma ho visto uno volare giù Ah ma tanto qua è ancora safe Vai sciardo vai Io credo relativamente safe Prego Let's go Volo Fammi volare il gioco Perché sono sopra gli zombie Perché c'è Magia C'è una pipe Una pipe run Faccio che arriva una mini horda Ma pipe me la prendo volentieri Cazzo Ah ma abbiamo zombie anche dietro Eh si arrivano da sopra Il boomer esplosono Escono dalle fottute pareti Ma le fottute non pareti C'è una spitterla davanti Uh ma che bel cincillo Interessante Che è il quad Uno due tre Sono caduto Non ci voglio credere Ma voi mi spiegate come cacchio Avete fatto A fare cosa? Qua c'è la pianta Ti puoi arrampicare Già peccato che non riesco a Non lì red Red vieni qua Dritto per dritto Dritto per dritto Ti arrampici sulla pianta lì E muori Che pelo Ma dai ma stai scherzando Ma era nascosta dietro Era nascosta dietro Che cazzo di zombie C'è Red che c'ha il giochi addosso Eh ma se non parla come faccio io Ti sto già rianimando Ok ha fatto Rochelle Andiamo di qua Ti ho capito Minchia altro che Splinter Cell La witch nascosta dietro lo zombie Qua non c'è un cazzo C'è una porta qui Qua c'era qualcosa E dove poi? C'era qualcosa Spasta Mazza da golf Adrenalina Che alpiglio io Oh ti prego Qualunque arma me l'è Va benissimo Ora come ora Prendo anch'io Il ferro 9 Qualunque arma me l'è Va benissimo Saltate raga Andate lungo Qui che c'è? Sto lì No C'è mica una magnum in giro Occhio al buco È normale È certo È certo Fatto 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 Occhio dietro Occhio su Oh merda Allora No qua è un cavolo No qua è un cavolo Dobbiamo attivare l'ascensore Eh sì Sopra Aspetta pillole qui Ed è fibrillatore Ah no Bile di boomer qui Ah prendo io Oh Tu lì La epic skin Che ci ho messo Brilla al buio Dobbiamo salire qua su Red Ci sei Su per le scale Qua non c'è niente No mi sembra Qua munizioni Mitraglietta Piede di porco Zombie Madonna è pieno Qua di Ascensore partito eh Ah già Ho attivato poco fa Ah qua c'è uno scalpo Ma però io voglio Aspetta una Cazzo giochi Fatto Sì sì Andato Spitter dietro di noi Spitter dietro di noi Cosa? Hunter su di me Non chiedermi Non stavo facendo io Quanto Ah e dai però Smoker Preso 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 Fatto fatto E ora possiamo Ritornare là Sì ma abbiamo L'orda ancora sotto Della B1 No ma sono pochi Aspetta Charger Eh vabbè Sulla scala Impossibile Strike Sì cazzo Ok ritiro Quello Ritiro quello Che ho detto Non sono pochi È un cazzo proprio Aspetta un attimo Ho il ferro 9 Ho il ferro 9 Hunter su di me Tirato Tirato Anche una pipe Smoker su di me Eh Hunter è salito Di no Red Red Rianimando Rochelle Quindi abbiate un attimo Occhio Spita dietro Spita dietro Spita dietro Spita dietro Fuggito Bro mi passi l'adrenalina Tirati il medico a te Passi l'adrenalina a me È già usata Scusami Vabbè Di tosi i medici Via No no dai dai Andiamo Andiamo Via Vabbè Grazie Andiamo via col 20 Mi sono incastrato Ma tanto ci sono un sacco di medici Che qua davanti Se siamo bravi a prenderli Cos'hai fatto tu? È pieno di medici Che qua davanti Ora saliamo su questo Ascensore L'ascensore è altalmente sicuro No 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 Giochi su di me Occhio Son caduto Eh lo so Ti ho visto È figa Quasi invisibile Eh sì Mi hai fatto un po' Con il culetto Via Rican Aspetta un attimo Ok faccio sta cosa Uno Due Ok fatto Via Ma erano dei medici Ma io mi arrivavo a prendere Scusa È pieno di medici Ce ne stavano quattro Ma sopra Ma chi è il Chi è che ha Creato sta mappa Non lo so Ma di certo è un genio Dai dai però Se salto però Me lo devi far arrivare là Non è che mi fai sta cazzata No Lo smoglio Abbiamo un po' di certo diverso Dicendo Eh Cioè Ma non ha senso comunque Sta cosa Dovrebbero levarla Da l'Eth4Dead Cosa? Cioè Sta cosa Dello Oh mio dio Aggrappato così Che non ha senso Cioè Un conto Un conto E farlo Vabbè Da una caduta Mortale Ma vaffanculo Sta pubblicità del server Oh cazzo Aia Minchia Minchia La faccia del danno Puttana vacca Mi sono tolto tutta la vita Per un saltino Che cazzo c'è La gravità 100 Riff Vabbè dai Mi sono tolto tutta la vita Era 80 di vita Sono a 16 Nooo Ma dai però Mi chiedo Ma che Allora Io stavo salendo Io stavo salendo Oh madonna santa Io sono incaffrato Malissimo È pieno Viene pieno Ferro 9 Ferro 9 Ferro 9 Vai di trovar Fa uscire Vai esci Esci che è libero Adesso Eh non riesco Buona Ma do Tu ho visto volare giù Mi hai fatto Un cacare Eh ma va Cazzo ho piccato un battone Nelle butane Ero già pronto a bestemmiare Per una bestemmia pronta Arriva il giochi Ma ne fai scende Che cazzo fa Saliamo via Possiamo dire come questa mappa È un casino Oh Ah let's go Vabbè dai Siamo arrivati Eh son Oh boy Che armi è un po' di merda Però c'è la chitarra Qua c'è un gabinetto Con tanta roba Bene o male che ho chiuso la porta Stava arrivando nord Stava arrivando il mondo Sì Il terzo e parte punto nord Stava arrivando Carpiato Sì Sì È esperto parkour Io te l'avevo avvisato Sì Che stasera finiva male Con ste cazzate Vabbè ragazzi Fa parte del mestiere Eh? Hola Pronti? Senza go Attenti che sulle scale Non ci si appende Quindi non Non forzetevi Reloading Oh Mi sto laggando Come solito Eh sì È la lag di stabilizzazione Aspetta un attimo Qua c'è il tuo cerco preferito Simo C'è? Oh qui c'è un fucile da cecchino Non ci provare Sento un hunter Sì Oh che salto Io sono dentro l'albero ragazzi No hunter vicino Grande E' sempre Dentro l'albero Inviamo la nostra Come Rochelle Ma dove? È sopra Ah è buono È salita da sola Ah no È salita da sola È salita da sola GG Inviamo la nostra vita Potete la CPU Salta No dai Salta 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 Charger Occhio che avete il charger vicino No vabbè se salta sulla piattaforma è a posto Salta qui Red Mamma mia Sì ma Vabbè ma io qua muoio di infarto È a breve Ve lo dico Guarda come muoio male Scendi Ma stai scendi dalla scala Raga Ehi senti Te l'ho detto Sono troppo abituato Su PID Su PID C'è lo stesso metodo Per salire e scendere Peccato che hai fatto peggio Non venite qua Tanto non c'è un cazzo Non c'è un cazzo C'è un cazzo Oh molly Addio Simo Vabbè ragazzi dovete salire Minchia Red Minchia Red Sto saltando con l'agio Incredibile ma vero Minchia Grandi emozioni Vedere la piattaforma che va tutta scatti C'è un charger qui Ragazzi io sono qua davanti Che sto pulendo la strada Ci sono ci sono Dietro di te Red sta pulendo dietro Che sto pulendo la strada Oh ue non spingermi Saltate Saltiamo giù di qua Scala Ci sei? Io aspetto Red Super la scala Ok Falta Pipa Frego io Qua c'è un medico di dietro giù. Dai ragazzi è finita la parte brutta. Sottiamo giù. Minchia spingete un po' di più la prossima volta. Ma vedi che non ha... Ma ho più a scendere. C'è la witch sotto i piedi. Ah minchia. Tanto se la start a lo chef. Minchia ho detto fatto. Merda. No raga non venite qui. Non venite qui. Non venite qui. Ti copro l'entrata che almeno non passano sulla piattaforma. Ok andiamo possiamo andare. Red che sta facendo puni con uno con la chitarra. Ok ragazzi dobbiamo attivare qua. Proccia guarda. Via. 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 State qui. State qui in zona bronchi. Sì ma io ho un probleminino. Ma piccolo piccolo. Grazie lo spitter subito. Butto la pipa. Butto la pipa. Butto la pipa. Perfetto. Il mio problema si è realizzato. Molly dietro. Vai. 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 Devo mettergli l'adrenalina perché sto morendo male. Aia cazzo. Qua si è aperta la strada. Sì lo so. Andiamo dentro. È arrivato. Io vi direi che se corriamo non è affatto una brutta idea dato che sento il tank che si avvicina. Sì infatti correre, 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 correre. No 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 indietro 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 indietro. È sopra? Sì. Puttana Eva corre. Niente. È niente cifota cintura 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 cintura. Morto è morto è morto è morto è morto è morto è morto. Dio porco di culo. Porco. Ciopimi copimi Crazy ti prego. Mi sto facendo c'è anche Red. Aaaaaaah Giorni di sorella. Sì per giochi e tank contemporaneamente. Via via salite su ragazzi ti copro io. Ah fantastico. Crazy è tutto nelle tue mani. Ti copro io con la pistolina se so poco. Vai vai vai. Minchia che culo ragazzi. Meno male che stiamo cercando a normale perché se ad avanzato qua ero un madonna. Io mi curo. Boomer sopra sparateli. No dai il cicciolo qui no. Vai su vai su vai su Edo vai su vai su. Sì sì. Ok fatto. Risolta risolta andiamo. No no vado io là Edo. Vado io vado io. Tranquillo vado io. Vado io vado io. Te lo torno indietro. Ah no. Che cosa c'è? Procelli. Torniamo indietro. Uno dall'altra parte. Dalla figura. Trollati. Tutti trollati. Tutti da portare contro la scalazione. Minchia veramente. No Spitter. No. Se c'è un'arma me la me la dici va perché sono rimasto a corto di immunizia. Tanto siamo arrivati in realtà la tailform qua sotto. Questa è semplicemente una zona bonus. Ok risolto. Venite giù ragazzi. Ok. La safe room è qua proprio qui guarda. Padella. Quando vedi la padella pigli la padella. Merda solo uno. Tranquillo c'è il fio del medikit. Ce lo faccio. Chiudi la porta. Chiudi la porta mentre curo. Oh che bello c'è la luce. E ci sono anche medikit a propulsione proprio. Questa dovrebbe essere... Sì l'ultima zona ragazzi. Ci siamo. Qua ce l'ha molto. Aspetta. Ci sono le munizioni esplosive. Carine. Qua c'è il medikit. C'è il red. Sono due medikit. Vabbè io sentimelo tiro. Sono un egoista di merda. S'attacca. Sono egoista io. Tutti sulla censura. Perché la volevi lasciare qui? Capita. Oddio per un secondo quel blocco mi sembrava una cassa di minecraft. La cesta. La mia vita è triste. Raga questa è la zona di salvataggio praticamente. Uh mitragliatrici. Sì lo so. Qua è pieno di roba. Ma ragazzi. Allora il punto è questo. Levatevi dalle palle. Guardatemi un attimo. Cagatemi. No non sprecarla Red. Non sprecarla. Allora là in fondo c'è il richiamo del salvataggio. Dopo il secondo tank. Mi pare. Bisogna correre qua in fondo. Superare il ponticello. E tornare oltre questo ponte qua in fondo. Arriviamo qui. E siamo salvi. Easy easy. Pronto. Pronti? Chiamo? Chiamo pure. Ok indietro Red. Indietro indietro indietro. Torniamo là. Torniamo là. Via. Dobbiamo resistere. Io te. Io subito la pipe. L'ho laggato malissimo. Ottimo. Stiamo all'ans 2. Occhiolo Peter. Peter. Minchia il charger come mi è mancato malissimo. Oh. Porco te vai. Prendo il controllo della mitragliatrice. Non ti conviene. Spawnano. Il Lord è spawnata da sopra il tetto sinceramente. Guardino. C'è arrivava ancora la mitragliatrice. E vabbè un culo. Te pareva. Charge. Porco. La mitica strategia dell'angolo. L'angolino. Brevettata ai tempi di Colt. Colt e Black Rose con i cani. Cazzo. E ti mettevi negli angolini. No. C'ho spitta. Tranquillo. Porca trovi. Ma ha cambiato l'arma in automatico. E' un culo. Ok arriva il tank. A me servono pillole però. Aspetti. Vieni. No prese 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 prese. Occhio 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 occhio. Mi culo al volo e ci sono. Ok. Ok. Io ho preso una pipe. Hunter. Hunter nelle vicinanze. E anche Boomer. Dietro Rochelle Hunter. Io c'ho pronta la pipe. Io piglio l'altra Molly per il... Occhio 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 occhio. Io mi metto nell'angolo raga. Prego. Spit. 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 Via da verde. Già morta. Sento il giochi vicino a me. Cazzate. Non c'è niente qui. Occhio. Ah giochi su di me. Ti ho visto. Ti ho visto. Ci sono. Ci sono. Oh c'ho Charger. Ehi. Preso. 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 Sventola lì. Sventola lì. Tranquillo. C'ho... 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 C'ho cicarrone contenta. C'è chi non si accontenta. Mi tiro anche il medio. Qualcuno mi copra. Deh. Ma guarda te va. Attacca a grappolo. Incredibile. Il boomer che a me è esploso sulla capoccia. Tranquillo ho tirato la pipe. Ma eh... Sv tank. Ma che è il tank. Eh niente sono morto. Sv morto. Carogna. Sv ho guardato male. Ho fatto poco. Mi cura il volo. Tira al medico. Tira al medico. Sì sì sto facendo. Sto facendo. Charger. Charger. Dopo due. Dopo due mani di correre. Sì dovrebbe essere. Ok a voi è arrivato. È arrivato. Potremmo andare mai. In fondo. Tutto in fondo. Via 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 via. Sta tutto. È andato. Sì. Cioè il classico ponte che se ne va via. guarda la posa. Questo è il ballo della vittoria. Siamo usciti dal Game Boy e tra l'altro Red Rage ne è uscito con una posa molto plastica. Quello è il ballo della vittoria. Raga abbiamo fatto in meno di un'ora. Cosa vogliamo fare? Ce ne facciamo un'altra? Sì dai. Registriamo quell'altra che abbiamo fatto i te crazy nel pomeriggio a difficoltà normale? Minchia quella oh mamma mia. Va bene. Vabbè a livello normale dai si fa easy dai. Quindi porti. Se vediamo qua il video gameplay sulla mappa di Super Mario. Ci abbiamo messo un pochino a causa di crash, di problemi vari eventuali. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta e ne siamo usciti anche abbastanza in lazy. Con un Red Rage che si è divertito a giocare con la gravità e ha eventualmente perso. Ok. Quindi porci. Termiamo qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così hai i likes come c'è e sapete come fare. Link alle pagine Facebook sempre in descrizione del video. Se non siete iscriviti su YouTube iscrivetevi e noi ci rivediamo ad un prossimo video. A presto Porci. Bella raga. Bella.